Il scenario scatta ancora in pieno velocità, il passaggio arriva, il passaggio sulla destra, un rete, ha svegliato anche i decenni, come in cinema l'arbitro non con valida. Vediamo se è veramente corretto, è il tempo di sì. Grazie a tutti i giri e il senso di Faridzato possono spandire anche la guardia lì.